Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse va a lavarti nella piscina di Siloe che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no ma è uno che gli assomiglia ed egli diceva sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista ed egli disse loro mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano quest'uomo non viene da Dio perché non osserve il sabato. Altri invece dicevano come può un peccatore compiere segni di questo genere e c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? egli rispose è un profeta. Gli replicarono sei nato tutto nei peccati e insegna a noi e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose e chi è signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù lo hai visto è colui che parla con te. Ed egli disse credo signore e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. carissimi amici di lacrime d'amore tv ben trovati. La parola che in questa quarta domenica di quaresima vi consegno è la parola cecità. Il vangelo di questa domenica è il vangelo del cieco nato il tema è quello della luce. Cecità. Nel brano di Giovanni che ci viene proposto troviamo due cecità cioè due essere ciechi. C'è l'essere cieco dell'uomo che viene guarito è una cecità fisica ma c'è l'essere cieco di altri personaggi. In primo luogo e soprattutto dei farisei e di coloro che si pongono attorno a questo cieco risanato e non credono che Gesù possa compiere tale miracolo. Allora abbiamo una cecità fisica e oggi il mondo ha questa cecità fisica cioè quando uno riesce a vedere le bellezze del creato quando non riesce a vedere la bellezza che il Signore dona a ciascuno di noi e si chiude nel proprio egoismo di non riuscire a vedere ciò che ci sta accanto. E insieme alla cecità fisica vi è anche una cecità spirituale che si riscopriamo nel mondo ma con grande dispiacere spesso riscopriamo all'interno anche della Chiesa. Cioè una cecità data dalla presunzione di essere i custodi di una verità che non va scalfita da nulla. Ed è vero, la nostra verità è Gesù Cristo, ma il problema è noi crediamo veramente in Gesù Cristo o non lo conosciamo, abbiamo una conoscenza solo parziale. Noi ci rifugiamo dietro delle regole, dei dogmi, delle situazioni per mantenere uno stato che Cristo ci dice che deve cambiare, che è quella del convertire il nostro cuore. I farisei nel Vangelo di questa domenica non fanno nulla per cambiare il loro cuore, anzi si arroccano dietro le loro presunzioni religiose per accusare Gesù di essere un peccatore. E qual è il peccato che Gesù ha fatto? Perché ha fatto questa guarigione di sabato? Cioè hanno dimenticato che il sabato deve essere il giorno della misericordia, il giorno della gioia, è un po' come noi. Sì, la domenica non è più forse il giorno della gioia e della misericordia di Dio, del prenderci cura. È diventato forse per alcuni giorni della salvanza, altri è diventato un giorno qualunque. Allora il Signore ci liberi dalla nostra ecicità e ci dia la grazia di poter scoprire il suo volto d'amore per scoprire il volto dei nostri fratelli da amare. Buona domenica a tutti voi.